Ci siamo attrezzato, ci siamo attrezzato, cioè stiamo creando una specie di grande rivoluzione nella comunicazione, nel modo di gestire i beni, stiamo rivedendo tutto perché il mondo è cambiato, non sarà più come quello di prima, erano tutte cose che avevamo in procinto di fare nei prossimi 5-6 anni, ebbene le abbiamo fatti subito, ecco vedo qui questo straordinario monumento per esempio, che è stato settimo per ora nei luoghi del cuore, ha avuto quasi 3 mila voti e veramente dice salvatemi, è un monumento enorme, tutto arrivizzante, stranissimo, curiosissimo, enorme, il FAI non potrà mai sobbarcarsi una cosa del genere, quindi solo lo Stato può intervenire, quindi faccio un appello al Ministro Franceschini perché lo Stato acquisti questo straordinario monumento che è una quarantina di chilometri da Firenze e che merita assolutamente di essere salvato. Grazie al Presidente del FAI, il Professore Andrea Carandini, vediamo insieme...